Lo sapevo che non dovevo farti giocare questo escape, lo sapevo, lo sapevo, perché te l'ho fatto giocare, perché ti ho detto diventiamo degli agenti segreti, guarda io non lo so, non lo so Agente 00 Steph Chiudi qua ti prego, chiudila qui E siamo tornati dopo tanto tempo in un nuovo escape, questa volta dovremmo vestire i panni di un investigatore privato Il nostro capo è stato ucciso da questa ladra, dobbiamo cercare di acciuffarla, allora le nostre spie l'hanno vista andare dentro questa casa Quindi dobbiamo trovare un modo di entrare senza farci notare e acciaparla, io non so come andrà a fare, so già che sta simpatica perché ha fatto esplodere uno yacht Sì praticamente ha fatto esplodere lo yacht, era lì in incognito, ha fatto questa esplosione gigante, l'ha fatto affondare, ucciso il capo, brava Qui ho notato che c'è qualcosa di interessante, guarda, 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 guarda Ok Uh, questo È una sorta di impianto idrico No Mi pare Questo è un codice a fare Questo è un codice Prima di tutto vedi che qui sotto c'è qualcosa dentro ma come arrivarci Quindi noi teoricamente Quelle manine prendi Mi sa che dobbiamo prima di tutto inserire una card, una tessera, qualcosa del genere Puoi trovare il codice Poi il codice e poi ci becchiamo quello che c'è dentro, più complicato No sì, è molto complicato questo Mi sembra giusto, mi sembra giusto È pieno di rompicapi, questo escape è pieno di cose Questa è chiusa a chiave, quindi ci serve una chiave per aprire la corrente perché magari possiamo staccarle la corrente e fregarla Assolutamente sì E invece qua c'è il tubo dell'acqua che magari possiamo aprire e chiudere Vediamo un pochettino se posso girare Mi sa di no Sotto il tappeto c'è sempre la chiave, Fere, guarda Perfetto E allora è sotto il vaso Vediamo È sempre sotto qualcosa, dai, è sempre sotto qualcosa Però di solito si sa più il tappeto del vaso Sì, sì, oppure le pietre È più un classico Tipo le pietre che togli Esatto Quelle decorative Allora, questa fontana d'acqua non serve a nulla Per la porta, non mi sembra ci sia una serratura Prova, prova Eh, come posso entrare? Con questa chiave? Ma non c'è la serratura Eh, esatto, esatto Ok, quindi questa porta si apre in qualche altro modo Torniamo indietro Quindi con quell'interruttore, per forza Fammi vedere Aspetta E infatti ci metti la chiave Ok, ok, mettiamo la chiave Iniziamo bene Non giochiamo da tanto gli escape Ma dai, siamo abbastanza in forma, per ora Eh, non male, non male, non male Ok, opla Quindi ci serve una combinazione Fere No, però, perché tutte le combinazioni Chiudici, ho capito che è una casa di ricchi Allora, Consolini ha detto che siamo in forma Adesso ci dici la combinazione Vai Allora, schiaccia tre volte questo Quale? Il secondo Il secondo? Ma in alto a destra? Ok, quindi questo? Uno L'hai zecato Poi schiacci Poi? No, la devi fare Quello di sotto Subito sotto? Sì Ok, sbagliato Ok E l'altro a destra Facciamo un Ok Ok, adesso Ora? È tutta una questione di ordine Secondo me non andava fatto così Così? No Però ci siamo, ci siamo Pa, 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 pa Eh dai, ma che sfiga che c'ho però io Pa, pa, pa Fere, spara, uno dei due L'altro Ah, si è fatto in automatico La porta si è aperta Ripeto, secondo me non andava fatto così Ma l'importante è riuscirci Perfetto Ma gli squali in casa? Cioè, ma stai scherzando? Che cosa? Non mi piace più Vedi, abbiamo trovato una cosa che non ci fa andare d'accordo Lo so, Fere Ma chi è che ha degli squali in casa? Scusa Chi è il matto che si prende degli squali in casa? Io vorrei dei pesciolini, ma degli squali proprio no Direi, direi Allora Questo vaso qui a destra Quadro Sai, dietro i vasi Qua, grazie Il gusto non le manca Questo va detto Sì, ok, ma amico Ma noi Io vorrei controllare se c'è qualcosa dietro Evidentemente non c'è nulla Niente, niente Ah, perché sai Io di solito Nei film mettono sempre qualcosa dietro i quadri Eh, di solito c'è i bigliettini Esatto Questo vaso però ha il centro della stanza e sospetto Giusto? No, no, suppongo Lo posso spaccare Ok Ok, premiamolo È una casa piena di trap Che succede? Visto Avevi ragione però, avevi ragione Incredibile Ma che cos'è questo matto? Un pannello di controllo segreto Ok Va bene, quindi come lo possiamo sfruttare? Di sicuro qua vedo una lente di ingrandimento Allora, aspetta No, non volevo salire sopra le scale Torno indietro amico, scusami, ho sbagliato Vedi che lì sopra c'è una lente di ingrandimento L'ho presa Ah no No, era una manovella Non la vedevo Come è vista la lente di ingrandimento? Non lo so Infatti non è vista solo tu, non lo so Ok Allora, qui sinceramente Ah, beh, sì È lo Spytronic 3000 Spytronic 3000 Ma ne abbiamo uno anche noi nell'altra stanza Cosa vuoi che sia? Eccolo, guarda, guarda Che bello Premi i tasti qui sotto Ah, so già come funziona Opla Ok, vai Premili tutti Uno, due, tre Visto, bravo, bravo, bravo Vedi, vedi, vedi E come la prendiamo? Devi entrare nella... Entraci tu E invece nell'altra stanza possiamo andare L'abbiamo trovata Ciao Ma abbiamo perso No, aspetta Se la troviamo Non lo so, Fere Però credo che quella sia una bomba Vero? Ma le piace proprio far esplodere tutto Eh, mi sa di sì Ci sta facendo esplodere, secondo te? Ci ha chiuso dentro Ok 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 Quindi siamo passati dal cercarla Al dover scappare noi da lei È un po' particolare come cosa È molto... Ebbè, è una criminale... Si è ribaltato tutto È una criminale esperta, professionista Quindi mi sembra anche Giunson non riuscirà a farla subito Allora, guarda qua Nel fuoco Subito ho notato che c'era qualcosa di nascosto Vedi? Scotta, sembra che ci sia qualcosa lì dietro Come la prendiamo? Quindi dobbiamo trovare qualcosa per spegnere il fuoco Nel quadro c'è qualcosa Eh, ma c'è sempre qualcosa dietro il quadro Il vecchio trucco Certo, certo Ok, però non credo di poter aprire questa cassaforte da solo Tipo così Ascolta Sì, dimmi Ascolta Allora, metti tutti... Gli puoi mettere tutti i pallini in fila? È quello che vorrei provare Un po' lì? Sì Poi l'altro... Eh, no, si spostano, vero? Però si spostano meno Ah, vedi, sì Sì, sì Ok Non riesce... Ah Ok, il primo e il terzo si muovono insieme Ok Allora, Consolini, devo essere sincero Un po' ci sono riuscito a caso Perché non ero... Eh, vabbè Non cantare vittoria Allora... Mi stavo per vantare Di aver avuto un po' di fortuna nella vita Invece no Ma è una gioia qua Manca un pezzo Ah, ok, quindi non dobbiamo fare le peggio cose Ma è quello del caminetto, secondo me Certo Hai ragione Ok, allora lasciamolo così, questo Sì, certo, certo Dopodiché vediamo un pochettino Nel divano Il bel divano Di scoprire chi è il suo redatore E basta Cioè, sei fissato con la casa di Ruby Ma vuoi vivere a casa con lei E diventa un criminale pure tu Guarda Ok Ok Fere, ma che casa è questo posto? Non lo so Guarda, è tutto strano Un cacciavite Ok, va bene, bene Negli escape i cacciaviti ci sono sempre Oh sì, servono sempre È un gran classico Proprio il cacciavite portatevelo sempre dietro Qualsiasi cosa che succede Per sicurezza Saliamo le scale Ok Stanza interessante Così a livello proprio di pari Riesci a vedere qualcosa di interessante? Assolutamente no Bene, così Allora, controlliamo il piano Mi sembra la cosa più scontata Esatto, guarda Lì al centro Questo spazio È particolare Sembra che qui ci vada qualcosa Cos'è? Una calamita Calamita Con la calamita Secondo me possiamo prendere la chiave nell'acquario E ce la portiamo via Grazie Grazie Brava Ok Finisco di controllare se c'è qualcos'altro Ma vabbè Neanche un divano Manca qualcosa qui Secondo me questa è la monopola Vedi, io metto la monopolina così No, secondo me No, non funziona Non gli piace No, purtroppo no Scusa se ci ho provato Torniamo indietro? Sì Mi sembra che in questa stanza abbiamo visto tutto Quindi proviamo con la chiave Che bello che dobbiamo andare nelle varie stanze Per risolvere poi le cose in giro È bella questa È un delirio È la casa Sì Degli segreti Dei passaggi segreti È bella, è bella La vorrei una casa così Sarebbe divertente Dai proviamo con la chiave Allora Quindi andiamo qui Utilizziamo la calamitina Facciamo Secondo me ha senso Sì Vedi, vedi, vedi Ok Però come ce la prendiamo? Così Ok, gira, gira, gira Ah Dobbiamo Guarda Rivare tutta la decorazione Ok Quindi pa 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 Ma quanto è bellino sto gioco Fere? Molto, molto, molto È bellissimo Poi soprattutto graficamente Il migliore in assoluto Attento all'espire È una chiave Mica si fa male con l'espire Eh no, ma magari rimane incastrata Ah, hai ragione Ok Ah, eccola, perfetto Mi stava venendo un mezzo infarto Anche io ho detto aiuto Magari adesso non le c'è Ci mancava solo perdere questa chiave Sai secondo me dove serve la chiave? Dove? Dimelo tu Non lo so Al pieno di sopra da questa parte Sono due posti diversi Ah, hai ragione Vedi? Ma è vero che c'era anche questa stanza L'avevamo vista prima Era vero, vero Quindi, ta Giriamo Apriamo E vediamo Oh mamma mia Eh vabbè Ma un sacco di altre stanze Questa casa è gigantesca Enorme Apriamo qui Il triangolo che ci serviva prima Ed è già una cosa che abbiamo trovato Ok, ottima Ed è già un bel passo avanti Qui nella maschera c'è qualcosa di nascosto Una testa di IAC Qui manca un occhio, ok Ah, ok Quindi abbiamo trovato una nuova cosa da cercare Un occhio rosso, ricordiamocelo Eh Porta aperta Porta aperta Andiamo prima a sinistra e per destra Ok, ottimo Esploriamo tutto, Fede Ok, lo studio di Ruby E qua ci sarà qualche informazione Su di lei Sicuramente nello studio c'è per forza qualcosa Di sicuro qua vedo subito un foglietto nascosto Guarda lo yacht che ha fatto esplodere Aspetta Questo era il piano Ricorda, la gente Ah, non va sottovalutato Qua ci sono delle foto Vedete, questo qua con il sigaro Anzi, una pippa quella È il nostro capo Che purtroppo è stato ucciso Invece questa qua è la signorina Che ha rapito per prendere i suoi vestiti E andare alla festa È molto, molto astuta Un foglietto lì sotto Esatto Questo simbolo sembra fuori posto Ok Te lo ricordi tu? Sì Sono due quadrati messi sorti Quindi due rombi Due rombi, esatto Allora, torniamo indietro In questo studio secondo me c'è dell'altro Nel telefono vediamo se c'è qualcosa di interessante Uno, due, tre Viva voce Ma che dice qualcosa? Non lo so Aspetta, Fede Non è l'ora giusta Ok Quindi È che ora è? È che ora è? Forse devo continuare a girare Esatto Fin quando non me lo dice Ci ho provato, ci ho provato Allora, torniamo indietro Magari c'è qualcosa per vedere l'oral E sistemandola Succederà qualcosa La manopola La manopola Manca qualcosa Ho preso anche un disco, hai visto? Ok Mettiamo la manopola Gira Giriamo Perché non c'è musica? Beh, perché dobbiamo aggiungere il disco, no? La barra si sta muovendo quindi succede qualcosa Gira più veloce che poi andiamo nella rossa Ok Cacciavite Qualcosa è saltato via Il cacciavite che ci serviva Ok Perfetto, perfetto, perfetto Però sicuramente adesso noi lo apriamo ma ci sarà qualcosa altro Ok, e beh sì Suppongo di sì E infatti, è infatti Ok Cosa dovrebbe essere esattamente? No Dovrei trovare qualcosa per riflettere quel raggio Però lo spicchio, scusa, non riflette questa cosettina? No 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 Ok Praticamente serve un vero e proprio specchio Allora, quindi questo lo lasciamo aperto così E adesso andiamo a mettere quel triangolo dove abbiamo visto Mi sa che era nel divano, giusto? Eh, mi pare di sì Vediamo No Perfetto Hai ragione Troppe cose, iniziamo a dimenticarcele Esatto Troppo grande e che strano Ah, non va bene questo Siamo nel bagno Allora, sarei felice se da questo bagno ne usciamo con un secchio con l'acqua per spegnere il fuoco per prendere quel pezzo da mettere in quel posto e vedere cosa c'è dentro Sì, sì, sì Allora, vediamo un pochettino Fuori dai piedi sgabello E non c'era nulla sotto Ok Avviciniamoci al lavandino Apriamo l'acqua Ok C'è il tappo E stiamo facendo allagare l'acqua Magari possiamo mettere profumo francese Ok Ok Nulla di importante Nello specchio Eh sì Guarda un altro spicchio Dov'è? Lì, in mezzo In mezzo a quei... Magari questo è abbastanza piccolo No, sembrano uguali No, sono uguali Quindi evidentemente servono a qualcos'altro queste cose Sì Servono a qualcos'altro Assolutamente sì E vediamo, guarda qua E vabbè Ma che casa è? Vabbè le armi adesso No What? Ok Che poi c'era qualcosa da prendere nella doccia Sicuramente Sì, però possiamo riattivarlo Allora, qui abbiamo le telecamere Quindi possiamo vedere che tutto lei poteva vedere Allora Una si è spenta Ah, le sto spegnendo io Come le tocchi? Sì Bravo Sì Ok Ok Quindi sa che siamo qui Agente Ma non sei sulla buona strada per trovare me E ce ne siamo accorti Siamo un po' in difficoltà ancora Devo essere sincero Sì Sì Si sta divertendo, eh Anche io mi divertirei al posto suo A vederci così Che frughiamo in casa sua A cercare tutti gli indizi E tutte le cose possibili Allora Lei ha Ah, ok Telecamere in tutto Vedi che piano piano cambiano Ok Quindi poteva vedere qualsiasi cosa Ci prendiamo quest'arma Che Ah, è un telescopio No, è un telescopio Ok Eh, la pistola se l'ha già presa lei Purtroppo E vediamo se nella doccia c'è qualcosa Posso aprire l'acqua Ok Succede qualcosa di utile Fere l'ora La vedi nello specchio l'ora riflessa? Ah, sì Ok, ok Quindi sono Le tre Le tre Le tre Andiamo Opla 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 Ok E' troppo bello Una grafica fantastica Quindi dobbiamo continuare Esattamente Quello che volevo dire Comunque ci fermiamo così Quindi sondaggino Per farci sapere Se lo veste vedere ancora Commenti per farcelo sapere Tanti like per supportare questo video E ci fermiamo così Spero che se vi riesci a dire C'è già C'è la prima volta che vedete Il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao